Una piccola atleta ha il suo sogno infranto. Andrea, 12 anni, balla da quando ne ha 4. Ha cominciato al centro Danza Smile di Montemurlo, allenandosi con un gruppo di bambine diventate le sue amiche, partecipando a diverse gare. Fin qui niente di strano, se non che per Andrea la danza è molto di più. Rappresenta il limite da superare ogni volta, la disciplina conquistaggia fin dove può arrivare il suo corpo, affetto da una grave cardiopatia che nel tempo l'ha portata a superare 15 interventi. Ma da quando la danza è passata sotto la giurisdizione del CONI per fare le gare, anche quelle meno impegnative, occorre il certificato per l'attività agonistica e a causa della sua patologia nessun medico lo può rilasciare ad Andrea. Anzi, Andrea adesso non può nemmeno fare qualche esercizio alla sbarra insieme alle sue compagne di corso, perché a causa delle restrizioni Covid le palestre sono aperte solo per gli agonisti. Il problema grosso è questo, che lei comunque ha sempre partecipato a queste piccole competizioni, perché comunque non era necessario un certificato agonistico, è sempre stata seguita dai medici che hanno sempre detto che lei poteva assolutamente frequentare corsi di danza e anche partecipare a queste piccole gare e rassegne. Ha un tipo di attività, la danza, che difende sempre come la fai, non ha un così grande dispendio a livello fisico, energetico, e comunque lei è sempre stata seguita da dei dottori che hanno sempre dato l'ok per poter fare questo tipo di attività. Irene, la maestra che ha seguito Andrea sin dalle sue prime pirouette, è pronta a rivolgersi direttamente al CONI, per permettere alla sua allieva di poter continuare a fare quelle piccole competizioni a cui ha sempre partecipato in tutta sicurezza fino all'anno scorso. L'ultima gara di danza Andrea non ha voluto perdersela, ha seguito le sue compagne fino a Chiavari per dare loro supporto, senza però poter dare il suo contributo alla squadra. Io spero tantissimo che questa cosa finisca al più presto perché io voglio continuare a coltivare il mio sogno, che è quello della danza. Che cosa ti ha insegnato la danza personalmente? Allora, personalmente mi ha insegnato tantissime cose, tipo a credere in me stessa, che ognuno può fare quello che vuole e che ognuno può arrivare ai propri sogni. E questo mi ha aiutato molto perché anche avendo questa malattia la danza mi ha aiutato.